Ciao a tutti ragazzi, oggi andremo a fare un video che fa ridere tanto 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 di Harry Potter, iniziamo Oh, sta caricando, che brutto Harry Potter con questa bocca tutta curvata Oh mio dio che brutto, quello che dice, botto 10 Poi non penso che nelle scale ci sono i vetri, ma va bene Io posso ridere, voi non potete ridere, quindi scrivete nei commenti quanti cuori avete perso, sono 5 Ehm, fa ridere quando c'era la barba Andrà alla miglior scuola di magia e stregoneria del mondo, eh? Eh o eh? Eh? Sarà sotto il miglior preside che Hogwarts ha mai visto Rubeus Hagrid Non intendo pagare mai Insultare Rubeus Hagrid Davanti a me Qui troverai le penne d'oca e l'inchiostro d'oca E di là tutte le sanfrosaglie d'oca Oh, state facendo le cavallette Lo sapevi? Proprio qui Mi pare una, questa qua ovviamente è inglese, non sono italiani Non si capisce proprio dalla faccia tutto a tutti Primo anno 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 Ciao Harry Ciao Hagrid Primo anno Wow Bene Draco Malfoy Il mio nome ti fa ridere Cappelli rossi Una vecchia toga di seconda mano Devi essere un Weasley Primo anno Su No vabbè Parola d'ordine Location Il portiere Cioè io Difende gli anelli Cioè io Mi segui fin qui? Credo di so Prendi questa Tento tornare Vado a letto Prima che uno di voi Venga un'altra brillante idea Per farci uccidere O peggio E Ehi guardate Una ricordella È un manico di scopa Una ricordella Non è un semplice manico di scopa È una 2000 Una ricordella Un'altra ricordella Sì, vabbè, 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 vabbè! Sì, vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè, vabbè! 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 Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! 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 Vabbè!